pace bene cari fratelli e sorelle in questa dodicesima domenica incontriamo il meraviglioso testo di marco 4 35 41 un testo che ci offre delle chiavi meravigliose per attraversare al meglio le tempeste le prove della nostra vita partiamo dal testo dopo una giornata di predicazione gesù parte con i suoi discepoli alla volta della terra dei geraseni terra straniera perciò fatta si sera si imbarcano come spesso accade nel lago di tiberiede scoppia improvvisamente una tempesta immaginiamo la scena la barca con i discepoli si ritrova ad aver a che fare con il mare ingrossato le onde tumultuose l'acqua che entra i venti cresce la paura dei discepoli che a un certo punto vanno da gesù e trovano gesù che dorme tranquillo sereno lo svegliano chiamandolo e dicendogli maestro ma non ti importa nulla che siamo perduti gesù sgridò i venti e disse al mare taci calmati improvvisamente torno il sereno e rivolgendosi ai discepoli disse loro ma perché avete paura non avete ancora fede e discepoli stupiti si chiedevano l'un l'altro chi fosse costui al quale anche i mari e i venti obbedivano nella strategia narrativa di marco tenete conto che il vangelo attraversato dalla domanda ma chi è gesù chi è costui che dice fa queste cose chi è colui al quale anche il creato obbedisce chiaramente è il signore antico testamento salmo 107 dio riduce la tempesta al silenzio e fa tacere i flutti del mare chiaramente noi ne sappiamo più dei discepoli in quel momento che si ritrovano alle prese con il mistero di gesù noi sappiamo che gesù è risorto lo abbiamo accolto nella nostra vita e questo testo alimenta la nostra fede in lui e al contempo ci offre delle altre chiavi molto preziose guardiamo all'atteggiamento di gesù e a quello dei discepoli in mezzo alla tempesta gesù dorme sereno uno potrebbe chiedersi come è possibile forse era molto stanco beh è vero che quando uno è molto stanco ha il sonno più pesante e ci sono delle persone che hanno un sonno talmente pesante che pure se gli suonassi la gran cassa vicino non la sentirebbero ma qui il motivo è un po più profondo le parole di gesù le domande che fa i discepoli ci aiutano a capire qualcosa di lui perché avete paura non avete ancora fede gesù attraversa la tempesta sereno perché ha fiducia nel padre e uno col padre vive costantemente unito al padre il signore affronta nella sua dimensione anche umana tranquillo la tempesta perché perché il suo cuore poggia nel padre viceversa i discepoli si ritrovano ad avere a che fare con una tempesta una tempesta che dura nel tempo non si esaurisce subito vedono che gesù dorme che non interviene subito e si lasciano prendere dalla paura dalla meschinità potremmo anche tradurre e pensano che a dio non importi nulla di loro maestro tu dormi cioè a te non interessa nulla di noi non ti importa che noi siamo perduti questo è il punto pensare che al signore non importi nulla di noi perché perché le prove arrivano le tempeste si scatenano e dio non interviene magicamente a risolverle quando ci ritroviamo davanti al silenzio di dio noi pensiamo che corrisponda all'assenza di dio ma non è così dio può essere anche silente ma non è mai assente aspetta che lo svegliamo cioè che in quelle tempeste ci affidiamo ancor più intensamente a lui è lui che ci dà la forza di affrontare le tempeste in fondo in noi la pace necessaria per superarle se glielo chiediamo vedete in fondo che cosa può rappresentare questa attraversata del lago la nostra vita la nostra vita è come questa grande traversata verso la sponda dell'eternità e la barca con i discepoli è un'immagine anzitutto della chiesa e poi può rappresentare anche la barchetta dell'anima di ciascuno di noi nella quale c'è gesù la chiesa si ritrova a solcare il mare della storia e ad affrontare tante tempeste pensate alle persecuzioni in atto quando marco scrisse il vangelo che continuano ancora nell'oggi ai regimi alle ideologie a tutto ciò che si abbatte contro la chiesa ma pensiamo anche agli tsunami causati dai peccati dei membri della chiesa pensate agli scandali economici gli abusi sessuali tutto ciò che purtroppo sconvolge la comunità cristiana a livello personale ci ritroviamo ad affrontare tante tempeste che scoppiano improvvise nella nostra vita ad esempio la scoperta di una grave malattia oppure la fine di una relazione ad esempio la fine di un fidanzamento magari in vista di matrimonio o un matrimonio finito dolorosamente oppure possiamo pensare ad un tracollo economico all'aver perso dall'oggi all'indomani il posto di lavoro magari con dei figli a carico insomma tutte quelle tempeste che improvvisamente si abbattono su di noi qual è la tentazione che possiamo vivere pensare che a dio non importi nulla di noi e qui il vero problema lasciarsi andare alla disperazione lasciarsi andare alla frustrazione non ti importa nulla parole che disse papa francesco feriscono il cuore del signore perché come sia lui importa di noi importa di noi più di quanto noi interessi veramente di noi stessi e del nostro vero bene allora gesù immediatamente si alza mette a tacere tutto e nel rivolgersi ai discepoli dice ma perché avete così paura non avete ancora fede vedete le prove le tempeste che inevitabilmente incontriamo sono delle occasioni che in fondo abbiamo per affidarci maggiormente a lui e lasciar che lui vinca in noi qualcuno ascoltando queste parole potrebbe pensare sì ma è difficile come se tutto dipendesse dalle nostre forze no miei cari a noi sta a cercare il signore ma è lui dal di dentro che cambia il nostro cuore che infonde pace al nostro cuore che ci rende capaci di affrontare quelle tempeste quelle tribolazioni come è possibile riuscire ad affrontare serenamente una malattia che distrugge il corpo come è possibile riuscire a superare un tradimento dolorosissimo come è possibile continuare a scegliere il bene in un ambiente meschino come è possibile continuare a voler bene quando sei stato trafitto e ferito più volte che cosa fare in queste situazioni dove gettare l'ancora dove trovare sostegno dove fondare poggiare la nostra interiorità in cristo vedete gesù non ci dà una ricetta magica sul come scansare tutte le tempeste nella sua presenza nella nostra vita una sorta di prevenzione o assicurazione contro gli infortuni no gesù non ci ha promesso di risolvere tutte le difficoltà ci ha promesso invece di essere sempre con noi e di darci la forza e la pace necessarie per affrontarle e superarle in fondo miei cari a volte le tempeste ci rendono un grande servizio perché ci aiutano a conoscerci meglio e ci danno occasione anche per crescere nella conoscenza di noi ma soprattutto nell'affidamento al signore così anche nelle relazioni fraterne tante volte le prove le difficoltà l'aver a che fare con i limiti degli altri mette in luce anche i nostri limiti e sono delle piccole grandi chiamate ad amare un po' di più a fare un passo in più nel nostro cammino noi comprendiamo a che punto siamo nel cammino di fede dal come affrontiamo determinate situazioni è facile ad esempio dire che siamo umili ma sarà soltanto nel momento in cui vengo punzecchiato che si vede a che punto sono è facile pensare di essere pazienti ma è soltanto quando abbiamo a che fare con una persona magari fastidiosa oppure quando ci ritroviamo ad affrontare una serie di contrattempi che capiamo a che punto siamo è facile pensare di essere generosissimi ma sappiamo davvero quanto siamo generosi nel momento del bisogno concreto magari di qualcuno che sia di tempo di un aiuto spirituale o economico dunque miei cari le tempeste possono rappresentare delle occasioni delle occasioni per riscoprire l'essenziale dove gettare davvero l'ancora della nostra fede per aggrapparci con ancor più forza al signore per far esperienza della sua potenza in noi in conclusione mi piace citare sant'agostino che a tal proposito scrisse se hai sentito un insulto è come il vento se sei adirato ecco la tempesta se quindi soffia il vento e sorge la tempesta la nave corre pericolo corre pericolo il tuo cuore ed è agitato all'udire l'insulto tu desideri vendicarti ed ecco ti sei vendicato e godendo del male altrui hai fatto naufragio e perché perché in te dorme cristo che vuol dire che ti sei dimenticato di cristo risveglia dunque cristo ricordati di cristo sia desto in te cristo che cosa volevi volevi vendicarti ma ti eri dimenticato che egli essendo crocifisso disse padre perdona loro perché non sanno che cosa fanno egli che dormiva nel tuo cuore non volle vendicarsi sveglialo ricordalo il ricordo di lui è la sua parola se in te è desto cristo tu dirai tra te stesso che razza di uomo sono che mi voglio vendicare forse morrò prima di vendicarmi frenerò dunque la mia collera e tornerò alla quiete del mio cuore svegliamo cristo affinché possiamo fare la traversata del mare nella calma e arrivare alla patria che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti a tutti a tutti Grazie.